Quello che potete vedere di diverso, anche questa ha più o meno la stessa datazione dell'altra, cioè una cosa che nasce nel Seicento e che viene più volte ripinta, tant'è vero che San Bernardo, che di solito viene raffigurato con la veste bianca, proprio perché viene da Chiara Valle, qui ha le vesti più scure, molto probabilmente perché piano piano il bianco ha cominciato ad assorbire lo spocco, l'umidità, ha alterato il colore originario, è stato ridipinto con colori sempre più scuri. Perché viene scelta questa iconografia di San Bernardo che venera la Madonna? Perché molto probabilmente ci si ispira al 31esimo canto del Paradiso, in cui Dante fa dire a San Bernardo una preghiera alla Vergine, che inizia con le parole Vergine, Madre, Figlia del tuo figlio. Quindi in pochissime parole vengono enunciati due grandi concetti, l'immacolata concezione e il fatto che Cristo sia vero uomo e vero Dio. Quindi due dogmi importanti della fede cattolica.